mmmh Ah, c'è un'idea Il mio cavallo non ho capito perchè ha sempre fatto una carina con la mia fidanzia e ha sempre fatto Ma fa un cazzo Ah? Io l'ho lasciato qua, l'ho lasciato Ma ora se la faccio, o mando via Così se lo mando ammazzato Ah, provo a fare un attimo una cosa perchè io so che Ci scoprono perchè qua lì va un poliziotto Che vedi? Due che sono usciti che sono morti Movedi un attimino Quelli ti fa pigliare la dinamite da quello lano, però Ehm C'è dentro quello lì dell'armaria che ti spara Che ti vede E davanti ci sono gli altri tizi Aspetta un attimo che va lì il poliziotto Poi l'ammazzo e gli sposto il carrello e lo butto in mezzo ai rotai Faccio prima Tanto questo non si può fare con calma Com'è Ma sembra stanno che ci siano soltanto queste cose da fare qua Porta qui è aperta Porta qui è aperta Scusa Porta aperta Ma proviamo a mandare su Stiamo vedendo Se dall'altra parte si può fare qualcosa Se dall'altra parte si può fare qualcosa Anche perché finché non c'è la polizia tutto si può fare Ma è piena di polizia tutto si può fare Poi è piena di poliziotto E' piena di poliziotto come cazzo risipiglio stilo aiuto guardi eh si non ti capito boh si capisce comunque per me non posso che la fai ma poi le guardie che cazzo arrivano mi manda qua in fondo arrivano cioè quando sto io ci sono le guardie e il polizio da dove cazzo spari lì arriva un poliziotto l'ho visto qua ce n'è un altro io vicino ma dove voglio portare un piazza volta è bello quello che non muoiono però perché sparo non muoiono e la madonna è quello di quello giusto buttano dinamite da sotto mentre dove stanno loro sopra o ciò che fuori ce n'è scarato ma preso il cappello questi c'hanno la mia porto dio manco pulsario e poi di sto cappello si blocca non si blocca e poi se non ti facesse prendere è in testa col dettaglio qualche dio lui schiva ha fatto il metix c'era parte io sono ma buttata dinamite per ho detto buttata a tiramite è da sotto a sopra prima via 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 punto c'è vata e viene verso l'inizio da me 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 da non stiamo bene mio cavallo lo sta e poi poco passaggio o in chiacchiavallo senza vita con un colpo ma con me figli di troia volino ma lo dico con un nego è lo stesso del caso bevono tra un'altra da due mangia qualcosa mi si riempie tutto io so che penso che sto bevendo quelle da due ma quella che non si capisce cioè quelle da tre quelle speciali ma me le segna da tre me segna sempre da due i casi speciali sono mi ha messo del cavallo attenzione mi frega al lavoro e nero mira manuale io a roba finito quasi tutti i momenti che qua c'erano gli altri eccoli un po davanti e vabbè qualcosa io ho sparato 40 colpi e quello è ancora vivono ma che cazzo è gesù cristo ma solente agli atto stanno tirando il carro si fregano il carro aia si metta fermati preso preso l'ho ucciso il che vede di qualificato come aveva che ne va a prima 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 se sei cavalli si muovessero bene di la pozzè rimane da 8 di o la mamma che salto fatto col cavallo via d'amore stranamente vanno più veloci cavalli e se ce la fai saltare sul caso è meglio però ma non è quattro avanti penso ma non è quattro avanti abbiamo finito ho finito anche questa madonna ho sentito un momento che l'ho scelto ma baffanculo ma baffanculo ok e quando muovete gli altri vedono le questioni che abbiamo fatto quel cacchi che c'ebravano tre tentativi per fare quello della miniera ha detto il primo colpo ancora della miniera anche l'ancio facile comunque c'erano soltanto nemici e basta abbiamo preso e si è scappato via ok